C'era una volta il Monte Serra e c'era ancora. Dalla sera di lunedì 24 settembre ad oggi un bruttissimo incendio sta consumando il Monte Serra, nel comune di Calci e di Vicopisano. Il Monte Serra è in pericolo tra fuoco e fiamme. Martedì 25 settembre, mentre venivamo a scuola, abbiamo visto una enorme nuvola di fumo e rosse fiamme di fuoco sul Monte Serra. Lunedì, mentre andavo a scuola, vedevo tanto fumo nero e le fiamme che bruciavano il Monte. Dalle finestre della mia classe lo scenario era impressionante e io provavo tristezza perché gli animali erano in pericolo e gli alberi erano bruciati. Alcuni civili avevano appiccato un incendio. Il fuoco ha bruciato tanti alberi. Più di 700 persone hanno abbandonato la propria casa e molti animali sono scappati. Storie nel fuoco di alberi bruciati, nuvole arancioni e animali scappati. Storie nel fuoco di case evacuate e molte persone si sono preoccupate. Storie nel fuoco che bruciano i cuori, accese e bagnate di mille stupori. Storie nel fuoco che avanza piano e dopo il vento le porta lontano. Storie nel fuoco di paura e dolore e il Monte Serra ci resta nel cuore. Dal telegiornale abbiamo saputo che da tante parti d'Italia sono venuti in aiuto per molti giorni. Finalmente oggi questo grande incendio è stato quasi domato. Io vorrei andare a visitare quel posto per vedere com'è ridotto. Abbiamo provato rabbia e tristezza perché gli incivili hanno distrutto le nostre montagne e il lavoro dell'uomo. Ma anche tanta paura perché il fuoco ha minacciato le nostre case. Il gigante buono Monte Pisano C'era una volta il gigante buono Monte Pisano che era molto generoso verso tutti. Con le sue braccia verdi accoglienti offriva ombra per i picnic delle persone. Con la sua folta a chioma regalava aria pura e quando faceva la doccia donava fiori e frutti per tutti. Lui adorava la pioggia perché quando pioveva i suoi abitanti provavano tanta felicità. Era un gigante buono e gentile che offriva ospitalità a tanti esseri viventi. Donava i suoi frutti dolci e gustosi. Ospitava rifugi carini dove vivevano famiglie felici. Una notte tristissima quando soffiava un vento potente. Un brutto drago rosso, giallo, arancione e nero, geloso del verde e del bellissimo gigante buono, sputò lingue di fuoco e causò un terribile e spaventoso incendio che uccise quel verde. Il Monte Pisano diventò così dei colori del drago. Per fortuna giuncero i nomini blu dei pompieri di Carabinieri e della Croce Rossa con l'acqua magica. Dopo alcune fatine e dei maghi buoni provarono a spengere quel fuoco, ma non si riuscirono subito. All'improvviso arrivarono i supereroi a salvare la complicata situazione. Quindi chiamarono i vigili del fuoco, i Carabinieri e i volontari che unirono le loro forze e si trasformarono in un gigante buono che si chiamava Acquatico. Acquatico con le sue lacrime magiche spense il fuoco. Alla fine il Monte Pisano, anche se era diventato tutto nero, ringraziò e promise di impegnarsi per tornare verde e bello come prima dell'incendio. Il cuore degli alunni di terza della scuola primaria di Fornacette riuscì a dare coraggio al Monte Pisano che ritornò verde. Alla fine il Monte Pisano, anche se era diventato tutto nero, ringraziò